Bragantini, Piepoli, Bianconi, Mazzotti di Celso, Colletti, Marco Meloni, Palesi, Fiano, Misuraca, Gregorio Fontana, Dattorre, Scotto, Nuti, Cecconi, Rizzetto, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio e Lenzi. Il Presidente comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della successiva seduta il trasferimento alla nona commissione in seduta legislativa della proposta di legge numero 2721. Renda altresì comunicazione sui lavori dell'Assemblea nelle successive sedute del mese di giugno. Svolgono infine interventi di fine seduta i deputati Arlotti, Porta, Burtone e Brugnerotto. La seduta termina alle 20.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta dell'8 giugno 2016 con inizio alle 9.30. Grazie. Se vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati amici Bindi, Matteo Bragantini, Capelli, Dinka, D'Ambroso, Di Gioia, Gregorio Fontana, Fontanelli, Locatelli, Manciulli, Marazziti, Pes, Portas, Ravetto, Rosato, Sanga, Shulian, Scotto e Vignali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 96, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato nella legato a resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 9 e 55. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie. Grazie.